Come è la tempistica? Magari se c'è qualche perplessità che emergerà sarà anche compito della Commissione cercare di convincere della bontà anche attraverso tante audizioni, non vi nascondo che ci sono parti che magari sono un po' più restie rispetto a questo tema, ma cercheremo non solo di convincere ma anche della bontà delle nostre idee.